questo incontro è io sono Paola Boffo della redazione di Transform il relatore che ci racconterà ha svolto già un'analisi approfondita del documento come sapete è un documento molto corposo di 400 pagine e Alessandro Scassellati che vedete online Alessandro lo conosciamo tutti uno dei principali contributori di Transform ricercatore sociale e di recente ha pubblicato per Deriva Prodi un libro che si chiama Suprematismo Bianco alle radici di economia cultura e ideologia della società occidentale e lo dico oltre che per fare pubblicità anche perché lui richiama un po' questo concetto del suprematismo anche nell'articolo che ha scritto per Transform sul piano Draghi articolo che troverete appunto online sul sito di Transform il pensiero magico di Draghi per trasformare lui da un'economia di pace ad un'economia di guerra e lui dice che Draghi ci parla di una sfida esistenziale con un richiamo ai valori fondamentali dell'Europa e con un sotteso messaggio suprematista bianco euro-occidentale essere leader faro e attrare e attore indipendente della scena mondiale rispetto agli Stati Uniti ma soprattutto la Cina e altri popoli del sud del mondo Asia e Africa in particolare rei di non voler più sottostare lo scambio ineguale estrattivista neocoloniale basato sulla cessione di materie prime a basso costo in cambio dei nostri prodotti industriali e servizi dice Alessandro che si tratta di un suprematismo rispettabile quello dei Draghi almeno se confrontato con quello sguaiatamente razzista delle forze politiche europee dell'ultra-destra apertamente neofascista e neonazista vorrei prima di dare la parola ad Alessandro ovviamente e poi invito tutti i partecipanti che vogliono partecipare appunto a segnalarmelo in modo da poter organizzare gli interventi prima di dare la parola ad Alessandro vorrei invece diciamo soffremarmi un attimo su alcuni punti soltanto pochi del curriculum di Mario Draghi che conosciamo tutti che però magari possono essere interessanti anche per la nostra discussione mi riferisco a tre punti che stanno nella storia recente dell'Unione Europea comunque innanzitutto alla famigerata lettera che la Banca Centrale Europea scrisse il 5 agosto 2011 al governo Berlusconi all'Italia all'epoca c'era il governo Berlusconi in quella lettera furono indicate le cose da fare con decreto legge e con ratifica parlamentare entro la fine di settembre quindi dal 5 agosto alla fine di settembre si raccomandò all'Italia di fare un certo numero di misure per recuperare la situazione che era molto complicata dal punto di vista dell'equilibrio del bilancio e tanto è vero che poi il governo Berlusconi il 16 settembre fece un decreto in cui si assumevano molte delle misure che erano state proposte proposte un po' poco perché in realtà sostanzialmente si trattò di un'imposizione per esempio fra le raccomandazioni di questa lettera c'è un ulteriore intervento nel sistema pensionistico per rivedere i criteri sulle pensioni di anzianità allineando le pensioni nel privato con le pensioni nel pubblico impiego per esempio c'era la necessità di una riduzione dei costi nel pubblico impiego rafforzando le regole per il turnover e se fosse stato necessario riducendo gli stipendi esplicitamente scritto riformare il sistema di contrattazione salariale collettiva una revisione delle norme che regano l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti la piena liberalizzazione dei servizi pubblici locali una clausola di riduzione automatica del deficit con tagli orizzontali sulle spese discrezionali qualora il deficit si incollasse al tetto di sforamento una riforma costituzionale si consigliava di adottare una riforma costituzionale per rendere più stringenti il regolo di bilancio questo mi sembra un po' diciamo l'embrione di quello che poi sono diventate effettivamente le raccomandazioni specifiche per paese adottate nell'ambito del semestre europeo magari con una forma un po' più elegante di questa lettera questo sostanzialmente era il primo atto di Draghi quando assunse la presidenza dell'ABC infatti la lettera è firmata sia da Draghi che da Trichet era il presidente uscente nel 2015 quindi quattro anni dopo i cinque leader del tempo cioè Juncker che era il presidente della commissione Donald Tusk del consiglio Disselblen il capo dell'aerogruppo Mario Draghi appunto presidente dell'ABC e Schulz presidente del parlamento avviarono i lavori per l'approfondimento dell'unione economica e monetaria promuovendo un pacchetto di misure e di riforme nell'ambito dell'Unione Europea che avrebbe garantito appunto l'approfondimento dell'unione economica e monetaria per il raggiungimento di una migliore performance dal punto di vista economico dell'Unione quindi si avviarono una serie di iniziative fra le quali era previsto uno strumento di bilancio per la convergenza e la competitività in sigla BIC che ebbe una lunga gestazione e anche perché alla proposta sostanzialmente non aderirono poi tutti tutti i governi nel 2019 quando stava per andare diciamo nell'esame insomma di questa proposta della commissione secondo le regole stabilite dalla legislazione europea fu chiesto un parere alla Banca Centrale Europea su questo strumento e questo sostanzialmente è un parere emesso dalla BCE firmato da Mario Draghi che è l'ultimo atto invece di Mario Draghi insomma uno degli ultimi atti di Mario Draghi nella veste di presidente della Banca Centrale Europea e lui in quella sede sosteneva chiaramente la definizione di questo strumento di bilancio che avrebbe dovuto operare nell'ambito di un programma di sostegno alle riforme che pure faceva parte del pacchetto e doveva essere governato in base alle linee strategiche dell'Eurogruppo e dell'Euro Summit il parere della Banca Centrale in coerenza comunque la proposta sottolineava il fatto che lo strumento dovesse essere guidato negli impieghi finanziari si trattava di un fondo sostanzialmente dalle raccomandazioni specifiche per paese emanate dal consiglio e poi in questo parere diceva che erano necessari ulteriori approfondimenti su come stabilire una funzione stabilizzazione macroeconomica nell'ambito dell'Unione come che esiste in tutte le unioni monetarie ma non esiste nell'ambito dell'area Euro perché in modo da assorbire i shock economici è quindi una funzione di stabilizzazione fiscale di dimensioni sufficienti per migliorare la resilienza dei stati membri e dell'Eurozone nel suo complesso questo strumento non è andato avanti sostanzialmente fino a quando sostanzialmente è stato definito il programma che tutti conosciamo Next Generation EU a seguito di uno shock molto forte nell'economia mondiale provocato dalla pandemia questo questo parere peraltro questa è una curiosità è stato emanato il 30 ottobre del 2019 quando probabilmente già il coronavirus circolava a Wuhan e sostanzialmente appunto questo è stato l'ultimo atto insomma di uno degli ultimi atti di Mario Draghi come presidente della Banca Centrale Europea soltanto appunto pochi spunti diciamo per delineare la figura di Mario Draghi e però Alessandro Scastellati ci aiuterà meglio a comprendere in che modo e con quali criteri si muove attualmente nell'ambito del suo rapporto per cui ti passo volentieri la parola grazie Paola e intanto benvenuti benvenute tutte e tutti dunque io cercherò di fare una cavalcata non so se riuscirò a fare tutto quello che mi sarei mi sono ripromesso però ecco vorrei sostanzialmente articolare questa presentazione questo ragionamento sul rapporto Draghi in quattro punti fondamentali uno è cercare di fare prima una premessa un ragionamento su qual è il contesto economico e politico in cui si inserisce il rapporto secondo punto lui dice chiaramente che l'Europa deve cambiare ecco ci si tratta di capire come deve cambiare l'Unione Europea secondo Draghi e qui c'è da una parte il quadro interpretativo generale che lui dà rispetto al tema particolare della competitività e poi ci sono le tre aree di azione strategica poi c'è un terzo punto che è quello su cui lui insiste in tutte le quattrocento pagine di fatto che è quello del fare squadra di essere effettivamente una comunità e qui lui identifica tre ostacoli da superare poi c'è il quarto punto che è il finanziamento del piano e la governance europea che i ragionamenti che lui fa almeno rispetto a questi due punti allora venendo al primo punto rispetto al contesto economico politico in cui si inserisce il rapporto lui intanto parte l'affermazione Paola diceva prima che questa poi lo vediamo lui dice siamo l'Europa si trova di fronte a una sfida esistenziale e usa una frase piuttosto pesante dicendo che l'Europa sta vivendo una lenta e angosciante un lento e angosciante declino quindi questo è un po' il quadro poi lo vediamo lui fa una chiaramente una descrizione molto fosca della situazione europea dal punto di vista economico e anche geopolitico direi ora l'idea di fondo di Draghi rispetto a questo tema quando lui parla di competitività non è quella di ragionare sulla competitività cercando di vedere come si possa rafforzare la cooperazione a livello internazionale e poi di dialogare con i poteri emergenti quindi la Cina la Russia il Brasil l'Indonesia ma è quello e qui il punto nodale secondo me è quello di assecondare la deriva verso un mondo dominato da poli quindi parliamo Stati Uniti Unione Europea e altri la Cina dall'altra tendenzialmente autosufficienti dal punto di vista energetico e tecnologico nonché armati fino ai denti e disposti ad entrare in guerra per risolvere eventuali controversie questo è quello che stiamo vedendo tra l'altro questa questa corsa all'armamento che è uno dei temi centrali del rapporto Draghi ora secondo Draghi l'Unione Europea deve dotarsi di una politica industriale basata sulla decarbonizzazione questo è un tema importante perché a differenza di altre parti dell'elite europea soprattutto quelle della destra la decarbonizzazione è vista non come un'opportunità ecco Draghi certamente la vede come un'opportunità rispetto alla nuova fase capitalistica diciamo di accumulazione quindi basata su decarbonizzazione digitalizzazione innovazioni rivoluzionari ecco lui ha questa visione dell'innovazione come la pensava Schumpeter nel suo nel suo nel suo testo molto importante e e e poi il tema deve essere quello anche di avere una politica estera che sia pragmatica però soprattutto finalizzata alla sicurezza economica e quindi l'Europa deve ridurre le proprie vulnerabilità esterne nell'approvvigionamento di risorse critiche e deve rafforzare gli investimenti nel settore della produzione delle armi per raggiungere una vera indipendenza strategica e accrescere la propria influenza geopolitica globale qui quando Paola diceva che appunto c'è un sottinteso riferimento diciamo come dire suprematista chiaramente è quello di mantenere l'egemonia il tema della competitività è dietro questa storia cioè come fa l'Europa a rimanere un potere egemonico globale in questa fase visto che poi come lui descrive non ha più le risorse apparentemente o comunque non è a livello di essere in grado di competere alla pari con la Cina e con gli Stati Uniti in particolare ecco ora la cosa di questo rapporto venne diciamo l'incarico di questo rapporto venne dato circa un anno fa da la von der Leyen presidente della commissione e al nostro tempo diede anche un incarico a Enrico Letta di fare diciamo un rapporto sull'unione dei capitali europei abbiamo l'unione monetaria ma non abbiamo ancora l'unione bancaria non abbiamo ancora il mercato unico europeo dei capitali diciamo ora Draghi il rapporto Draghi incorpora buona parte di quello che Letta il rapporto è uscito prima di quello di Draghi quello di Draghi è uscito il 9 settembre è stato reso pubblico e però quindi diciamo dentro c'è perché poi lo vedremo quando parliamo del finanziamento il tema del mercato unico europeo del capitale diciamo dei capitali è fondamentale anche rispetto a dove andiamo a prendere i soldi per finanziare tutto questo bel ragionamento rispetto alla competitività come diceva Paola è un rapporto che nel complesso almeno io l'ho letto nella versione inglese sono circa quasi 400 pagine diviso in due sezioni una prima sezione è un po' di sintesi e poi ci sono già una serie di indicazioni anche molto precise la seconda parte invece è legata a due questioni che sono da un lato dieci settori strategici poi li vediamo e poi anche delle invece politiche orizzontali che dovrebbero diciamo in qualche misura sostenere tutto l'impegno tutto l'impegno dei contenuti del rapporto ora diciamo che il rapporto è interessante io lo consiglio a tutti di leggerlo comunque almeno di leggere la prima parte che sono circa 69 pagine perché è da modo con molta chiarezza di avere chiaro qual è il modello di analisi e di ragionamento quindi le mappe concettuali la storia la struttura cognitiva dal punto di vista dello stato d'animo allarmato e angosciato sul futuro dell'Unione Europea della parte più consapevole della tecnocrazia europea quella che è stata al potere quindi quello che raccontava prima Paola rispetto a Draghi vale anche per per Letta per altri è stata al potere dal 7 febbraio del 1992 cioè da Maastri questi sono quelli che ci hanno ci hanno come dire governato dal punto di vista almeno anche nazionale perché Draghi insomma prima di andare di fare il salto europeo è stato importante in Italia tutte le privatizzazioni e tante altre cose quando era direttore generale del ministero del tesoro ecco e e poi no BCE e così via ora questi hanno governato e la cosa interessante è che cioè pratica uno si si domanda no si domanda dice ma dove sono che cosa hanno fatto questi se poi il quadro fosco che Draghi ci presenta no rispetto alle condizioni della competitività europea è talmente misero diciamo no rispetto in comparazione rispetto ai nostri competitori cioè di che cosa si sono occupati no cioè quale quale stato ovviamente sappiamo che il tema i temi sono stati non quelli dell'economia reale ma sono stati quelli della delle politiche monetarie e quelle poi della del del fatto che l'Unione europea è diventata soprattutto con il patto di stabilità il cane da guardia delle politiche nazionali e quindi nella logica in una logica diciamo in cui c'era come c'è ancora un'ideologia neoliberista egemonica ecco il tema era quello appunto di mantenere sotto controllo le spese l'austerità i tagli no quello che di cui anche parlava prima della lettera famosa parlava Paola quindi diciamo che questi aspetti hanno noi li abbiamo pagati sulla nostra pelle perché poi questo ha significato sostanzialmente che l'investimento pubblico negli ultimi vent'anni o anche più di vent'anni 22 anni in realtà è colonlato si è contratto in tutti i paesi e conseguentemente il capitale pubblico che però cosa vuol dire il capitale pubblico vuol dire strade ferrovie ospedali scuole servizi si è naturalmente deteriorato la cosa interessante è che Draghi ammette consapevole che insomma ci sono andati giù un po' pesanti e quindi in alcuni passaggi dice ma in effetti sono stati commessi degli errori e lui li attribuisce soprattutto all'insensibilità delle classi dirigenti che è fantastico perché voglio dire cioè forse è anche un'ammissione di colpa però certo non è che no e quindi dice questi errori dovranno essere evitati in futuro il bello di questo rapporto è che tutto sulle variabili economiche non c'è nulla sul fatto che la competitività è fatta appunto anche di strade ferrovie ospedali scuole servizi cioè perché e poi noi non è che viviamo solo di industria o di prodotti e di merci ma viviamo in un sistema sociale in cui abbiamo poi tutti i nostri bisogni una popolazione che invecchia e tutte le cose che sappiamo però di questo non si parla assolutamente nel rapporto cercherò di citare lui richiama i valori come diceva diceva Paola li richiama ma poi in realtà non c'è nulla anche sul tema dell'inclusione sociale il modello sociale europeo lui lo richiama e dice anzi no ma noi siamo diversi dagli Stati Uniti perché noi abbiamo il modello sociale europeo il problema è che quello che è stato fatto negli ultimi negli ultimi 22 anni ha completamente distrutto ha fondato il modello sociale europeo abbiamo pensioni che non sono in grado di far vivere le persone in maniera decente non parliamo dei salari che sono almeno nel caso italiano sono addirittura arretrati rispetto negli ultimi 30 anni o sono rimasti totalmente immobili e appunto poi tutte le altre storie le regioni periferiche come il mezzogiorno o i lander tedeschi che sono stati abbandonati completamente a se stessi tutte queste tematiche sono completamente fuori da qualsiasi riflessione ragionamento eccetera ora diciamo che la cosa interessante è che noi adesso la Fonderlion ha affidato a uno dei massimi responsabili di questo disastro sociale almeno ecco poi dopo l'economico ne parla lui però del sociale lo possiamo dire noi ecco diciamo viene affidata la visione di quello che dovrebbe essere da qui ai prossimi decenni la visione di futuro dell'Unione Europea questo trovo quasi una cosa diciamo piuttosto masochistica da un certo punto di vista ecco continuiamo a farci del male certo Mario Draghi esprime il massimo il top del pensiero tecnocratico europeo quello di Bruxelles quindi figurarsi però ecco diciamo che questa situazione diciamo che noi stiamo vivendo è quella appunto che si è determinata proprio a seguito della linea che è stata seguita in questi decenni ora diciamo che tutto il rapporto è costruito su un punto su un ragionamento un'analisi di fatto che parta da un considerare le politiche industriali e le variabili economiche che prese che lui prende in considerazione e sono solo alcune di quelle possibili bisognerebbe sempre ricordarsi perché stiamo parlando appunto di scelte scelte che sono anche di tipo politico il punto è che nella logica della competitività tutto deve essere messo al lavoro quindi parliamo di imprese banche stati nazionali università sindacati sono visti da draghi unicamente come degli strumenti che devono stare al servizio dell'obiettivo di mantenere la posizione egemonica dell'Europa sul resto del mondo lui arriva per esempio addirittura a dire che la banca europea per gli investimenti che attualmente non può finanziare l'industria delle armi lui dice no bisogna finanziare lo sforzo è questo e quindi bisognerebbe cambiare lo statuto della banca ecco tanto per dire cioè tutto deve stare a servizio e poi lui diventa anche però in modo abbastanza apertamente ricattatorio e dice che se questo obiettivo quello appunto della nuova competitività dell'Unione Europea non venisse raggiunto lui dice tra virgolette non saremmo in grado di finanziare il nostro modello sociale dato che siamo arrivati a un punto in cui se non agiamo saremo costretti a compromettere il nostro benessere il nostro ambiente la nostra libertà o si fa come dico io oppure sostanzialmente il il destino sarà molto gramo e quindi diciamo questo è un po' questo era un po' per fare un ragionamento sul sul quadro di fondo lui dice che appunto qui bisogna che l'Europa cambi per esempio quando dico per esempio che tutto deve essere messo al servizio per esempio il tema è uno dei temi centrali è l'innovazione no? l'innovazione allora l'innovazione ovviamente si guarda sia alle aziende ma si guarda anche alla ricerca all'università alla ricerca e sviluppo no? e qui lui fa tutto fa nelle sue raccomandazioni ricordo che poi il rapporto per dieci settori ci sono centosettanta come dire raccomandazioni oppure obiettivi e poi misure di intervento anche molto dettagliate specifiche allora qui lui per esempio per quanto riguarda il settore adesso solo per fare un esempio ecco per dare un'idea della ricerca e sviluppo dice c'è il programma Horizon Euro che è un programma che esiste ormai da parecchio tempo ed è il principale programma di finanziamento di ricerca e sviluppo in Europa lui sostanzialmente vuole raddoppiare i fondi da 93 miliardi a 200 miliardi ma poi vuole anche rafforzare e riformare il consiglio europeo per l'innovazione che è un'iniziativa finanziaria da Horizon e vuole sostanzialmente trasformarlo in cosa perché qui c'è uno e altro dei temi fondamentali del rapporto un'istituzione simile all'agenzia americana per i progetti di ricerca avanzata della difesa il DARPA che diciamo fa affidamento su mercati pubblici per consentire il finanziamento su larga scala di programmi tesi a sviluppare tecnologie dirompenti dual use ovviamente cioè quelle che possono essere usate sia per uso civile e uso militare ecco quindi dicevo questo perché lui critica gli Stati Uniti dice gli Stati Uniti l'Europa è diversa dagli Stati Uniti perché il modello sociale europeo noi le disuguaglianze poi sarebbe tutto da verificare questo discorso rispetto all'evoluzione degli ultimi vent'anni e e e quindi il welfare deve essere anzi rafforzato non ci dice come no perché i soldi non di soldi e di programmi su questo non se ne parla però il modello è quello americano cioè lui c'ha in testa che l'Europa deve diventare più america più america a tutti i livelli quindi dalla dalla ricerca a eh il discorso del del sistema di approvvigionamento delle armi no lui cita il fatto che in Europa non so ci sono 48 diversi tipi di carri armati negli Stati Uniti ce n'è solo uno che si viene prodotto no ecco c'è questo modello e poi soprattutto sugli aspetti finanziari lo vediamo dopo rispetto al fatto che l'Europa praticamente non è in grado di secondo lui di finanziare eh diciamo l'innovazione le nuove start up diciamo no ecco e quindi ci vogliono va costruito non solo il sistema finanziario diciamo di sostegno eh ma devono essere costruiti proprio i soggetti no quindi il venture capitalism il il sistema del private equity gli angel investors no cioè questi angeli custodi che investono nelle aziende le portano alla quotazione il modello anche lì è modello americano no ecco cioè dove poi quello che sappiamo è una delle cose che vorrei vorrei scrivere anche alla luce di un libro che è stato pubblicato di recente da eh Alessandro Volpi i padroni del denaro uscito dalla terza prima dell'estate insomma che parla proprio di questo tipo di capitalismo dei private equity dove ci sono giganti con Blackstone eh Vanguard State Street cioè che hanno trilioni di eh trilioni di dollari eh investiti nelle aziende no e sono praticamente diciamo il cuore del capitalismo globalizzato attuale eh se uno va a vedere tutte le principali aziende questi stanno dentro tra il 20 e il 25 per cento ah tre fondi eh tre quattro fondi eh stanno dentro con quote con quote azionarie del 20 25 per cento quindi sono questi che stanno in realtà controllando in un modo o nell'altro il capitalismo internazionale ora come deve cambiare l'Europa per Draghi allora il tema è che al centro di tutta questa questione della competitività per Draghi eh lui è coerente rispetto all'impostazione da tecnocrate e neoliberista c'è l'impresa privata non c'è non c'è il pubblico al pubblico non c'è c'è solo l'impresa privata e possibilmente anzi la grande azienda e se non c'è la grande azienda tutto il rapporto e tutte le raccomandazioni sono costruite anche rispetto al tema delle acquisizioni dell'antitrust delle regole del gioco diciamo rispetto a eh eh per costruire dei campioni europei sostanzialmente che siano in grado di essere eh diciamo di quindi un tema di centralizzazione del capitale di come dire di eh costruzione di quantomeno di oligopoli se non di veri e propri monopoli quindi a livello europeo quindi bisogna andare oltre la dimensione del nazionale assolutamente e anche sul piano europeo bisogna capire che poi in realtà se vogliamo l'innovazione ci vogliono dei soggetti che siano talmente forti da un punto di vista dei fondi eh che possono fare gli investimenti necessari e quindi bisogna in qualche misura anche rispetto a tutta la questione dell'antitrust eh essere valutare eh le questioni in maniera diversa rispetto a quello che è stato fatto c'è stato un caso vi segnalo che è stato lo shock eh europeo che era la fusione tra Ashton eh francese e la credo l'altra era quella tedesca sulla storia dei treni ecco della della produzione di treni che praticamente questi erano i due grandi competitori che è stata bocciata dall'antitrust europeo perché l'idea era che qui c'era un monopolio europeo no si costruiva questa cosa qui è il rapporto Draghi in parte è una reazione a quello shock che è subito diciamo in quell'occasione no che era il tema noi dobbiamo competere con i cinesi dobbiamo competere con gli Stati Uniti e dobbiamo avere un gigante no perché se no non ce la faremo mai quindi questo è ora la questione appunto è come deve cambiare allora lui c'ha la cosa fantastica è che in realtà lui si mette come da tecnocrate veramente in cattedra e dice ma sto capitalismo europeo è un disastro ha fallito tra l'altro gli sono stati dati anche tanti soldi perché i sussidi non solo in Italia in giro per l'Europa per fare innovazione sotto altre forme no al di là degli aiuti di Stato diciamo lì ci sono dei programmi europei che finanziano per dire innovazione e sono stati buona parte delle aziende italiane europee grandi hanno preso soldi insomma però il problema è che questi hanno fallito si sono dimostrato di essere uno strumento inadeguato per seguire l'obiettivo egemonico globale che lui assegna all'Europa cioè questi qui lasciati in libertà seppure finanziati con sussidi eccetera il settore privato ha preso le decisioni non ha preso le decisioni giuste su che cosa produrre con quali tecnologie quali impegni impiego di lavoro a che prezzo per quali mercati soprattutto non ha fatto gli investimenti necessari per le trasformazioni innovative digitali ed ecologiche e questo ha determinato il lungo ristagno dell'economia europea e il ristagno attuale il capitalismo europeo ha continuato con le produzioni del passato ad esempio non sviluppando le capacità produttive dell'auto elettrica in Europa cioè in questi giorni c'è la crisi del settore automobilistico e viene fuori che in realtà investimenti ritardati politiche obiettivi che l'Unione Europea ha posto come il 2035 per la messa al bando delle auto prodotti che consumano fossile quindi diesel e benzina e queste cose si sapevano da più di un decennio insomma che c'era un momento in cui sarebbe arrivato e questi non hanno investito sufficientemente adesso i cinesi hanno investito invece perché avevano fatto una programmazione centralizzata diciamo tra virgolette il Made in China 2000 e 25 che però è partito nel 2015 e avevano identificato i 10 settori come fa adesso lui su cui bisognava investire però nel 2015 i cinesi lo facevano non nel 2024 ci hanno messo le risorse pubbliche e hanno scatenato diciamo gli animal spirits imprenditoriali delle aziende cinesi e adesso ci sono 150 aziende cinesi che producono automobili poi ci sarà un processo di concentrazione pazzesco immagino di selezione eccetera però ci sono già dei giganti cioè la la BID produce più automobili elettriche della Tesla è diventato il principale produttore di automobili elettriche e noi come reagiamo mettiamo i dassi mettiamo i dassi perché dobbiamo proteggere il nostro settore automobilistico e quindi i consumatori europei a proposito di competitività si troveranno a comprare macchine che costeranno di più rispetto a quelle che potrebbero costare poi dopo uno dice vabbè ma e questo è uno dei temi del rapporto su quali settori noi possiamo essere intransigenti e quindi dobbiamo difenderci mettere i dazzi e su quali invece possiamo come dire lui dice addirittura diciamo avvantaggiarci del fatto che stati esteri pagano una parte del costo e questo è un riferimento ai cosiddetti sussidi cinesi alle imprese per cui dice quelli ci mettono i soldi pubblici e quindi allora per esempio l'auto elettrica va difesa ma invece il fotovoltaico su cui non abbiamo nessuna ormai più capacità produttiva quello i cinesi va benissimo sulle questioni delle turbine eoliche invece su cui abbiamo ancora una possibilità di competere ecco quindi il rapporto è costruito molto anche su settore per settore per individuare quali sono quelle parti che vanno difese quelle che invece vanno abbandonate la cosa interessante è che Alessandro scusami se sei d'accordo mi fermerai un attimo anche per lasciarti perché ho un iscritto a parlare e invito anche altri ad intervenire così insomma magari mettiamo a pagare e a cuocere magari potrebbe essere magari lo abbiamo sugli altri punti dopo certo appunto perché tu hai delineato diverse cose grazie e allora Roberto Musacchio no no grazie seguirvi è di grandissimo interesse hai fatto benissimo tu Paola ricordare gli antefatti perché diciamo c'è un primo tempo di questa vicenda di cui si dimentica nel momento in cui scrive questo questo rapporto insomma e poi a sentire Alessandro è sempre molto anche come si può dire piacevole perché unisce la lettura complessiva poi anche anche alle semplificazioni e così via io cerco di enunciare due punti insomma con una premessa io penso che Draghi sia al chienesismo così come la UE sia all'europeismo cioè noi siamo di fronte a uno slittamento purtroppo non solo semantico ma nella realtà c'è una forma di evoluzione passiva determinata da questa fase del capitalismo per cui concetti che poi rappresentano realtà storiche insomma vengono traslati in qualcosa che non c'entra nulla con quello per cui hanno stati pensati ecco io come sapete uso spesso questa cosa dell'Europa reale proprio per dire questo ma appunto la UE sa all'europeismo con una forma di Europa reale Draghi sarà che sono influenzato dalle frequentazioni con l'autore del libro di figli di Troia di Troica non mi viene il nome adesso chiedo scusa che fu Bruno Amoroso eh Bruno Amoroso compianto insomma Bruno che fu allievo di caffè ma insomma diciamo degli elementi cardine del chinesismo allievo di caffè come Draghi peraltro sì appunto e poi ci sono i cattivi maestri ma soprattutto i cattivi anche a Riezzo ecco non ci sono proprio i punti sostanziali del chinesismo cioè la centralità dei rapporti sociali dell'occupazione della di non avere gli slivelli tra importazioni e esportazioni cioè tutto ciò che ha costruito l'Europa come modello sociale non c'è nulla di questo in Draghi e peraltro seguo un percorso che viene da lontano che è quello per cui dalla commissione dell'oro in poi come abbiamo visto con un altro di quelli che conoscono questi passaggi Riccardo Petrella si è sostituito il modello sociale europeo precisamente con l'idea della competizione e dell'innovazione che oramai sono vecchie come il CUC allora parto precisamente dal punto della decarbonizzazione che metteva in rilievo come positivo c'è anche Franco Russo così contento che parlo un po' l'ambiente parto da l'arca ardorifici così insomma io ho fatto il vicepresidente della commissione clima del Parlamento europeo vent'anni fa circa insomma e i dati di partenza dell'Europa rispetto alla produzione di carbonio per unità di prodotto interno lordo e anzi anche per unità di prodotto industriale rispetto agli Stati Uniti e la Cina davano un vantaggio competitivo dal punto di vista ambientale soprattutto anche dal punto di vista economico e tecnologico alla Europa e sociale all'Europa clamoroso cioè le emissioni di CO2 per unità di prodotto lordo ma anche di prodotto industriale erano circa la metà di quelle cinesi ma anche di quelli Stati Uniti con quelle Stati Uniti che sono particolarmente aggravate dai propri modelli sociali penso al modello trasportistico ad esempio ma non solo il tipo di rischialdamenti eccetera la vita sociale l'organizzazione delle città nei trent'anni della ricostruzione del dopo guerra l'Europa ha invece costruito un modello sociale che attraverso l'intervento pubblico e attraverso alcune cose per esempio i trasporti pubblici collettivi e anche su ferro noi abbiamo una visione un po' distorta perché siamo in Italia quindi il modello automobilistico e quant'altro però mediamente in Europa sono molto alti mentre negli Stati Uniti sono assolutamente bassi la gestione urbana è nettamente superiore dal punto di vista europeo rispetto al punto di vista statunitense eccetera eccetera faccio questo esempio per dire che in trent'anni un continente che era stato distrutto per propria responsabilità con la guerra causata si era ricostruita con livelli di vita nettamente superiore a quelli di tutti gli altri continenti con livelli economici e sociali che sono intrecciati perché altrimenti è inutile che parliamo di caffè di kinesismo e così via parliamo d'altro nettamente e peraltro devo dire che questa cosa ancora permane ieri ho visto dei dati statunitensi che mi hanno impressionato la vita media statunitense è sette anni inferiore a quella europea e questo a prescindere anche dalle condizioni di classe mediamente sette anni anche per le classi ricche a causa di un modello di vita frutto di un modello sociale che fa letteralmente schifo in questi trent'anni eh le classi vicenti borghesi hanno fatto sì che invece che puntare su quanto costruito un'autoguerra hanno dilapidato una parte eh di quello eh che era stato realizzato nonostante questo la quantità di capitale pubblico di capitale sociale e anche di risparmio privato pensiamo all'Italia cioè Maastricht è un'enorme truffa perché ci consegna un debito eh e non ci fa calcolare il risparmio privato che ancora esiste nonostante eh sia stato fortemente indebolito e soprattutto infilato dentro un circuito perverso che è quello della finanziarizzazione che fa sì eh che noi assistiamo per questa strada alla privatizzazione della moneta che traina con sé la privatizzazione di tutto ciò che riguarda gli aspetti della vita economica e sociale tant'è vero che mi pare evidente che quello che succede in Europa altro che piano Draghi è la volontà di accavarrarsi la quota enorme di ricchezza pubblica e sociale ancora esistente attraverso la sua immissione nella finanziarizzazione le pensioni in primo luogo l'acqua c'erano tutti europei sono trentatremila miliardi di euro appunto quando mi occupavo molto di acqua leggevo mi pare che fosse la Deutsche Bank che diceva che bisognava arrivare a pagare l'acqua il cinque per cento dei redditi delle persone cioè cose assolutamente assolutamente incredibili e quindi Draghi è la riproposizione di questo quadro totalmente falsificata non dal futuro ma dal passato cioè l'Unione Europea è costruita in contrasto con quello che aveva costruito l'Europa e noi andiamo avanti su questa strada su cui non c'è né competizione né innovazione non c'è nulla perché tu sei un soggetto destinato comunque ad essere spolpato dal grande capitale finanziario che rimane pure nella crisi della globalizzazione negli scontri anche armati che si verificano nella globalizzazione il vero soggetto che determina il carattere dominante del capitalismo ma approfitto per dire la questione dei scontri armati e finisco per dire che questa parte è la parte più ridicola questo tipo di idea dell'Europa che si arma poteva essere proposto da De Gaulle nel 1950 e infatti De Gaulle proponeva questo per la Francia non per l'Europa ma pensate adesso di inserirsi dentro i conflitti esistenti partendo da qualche decina di migliaia di bombe nucleari di svantaggio nei confronti della Russia degli Stati Uniti e della Cina oramai è un'ipotesi demenziale che serve semplicemente a fare un po' di chinesismo di guerra a far prosperare un po' di quelle grandi imprese che girano per l'Italia e non solo che sono legate al settore militare a fare affari sugli scenari di guerra che si contribuiscono ad alimentare ma che non determineranno nessuna possibilità per la cosiddetta Europa reale di assurgere a un ruolo anche di deterrenza perché è proprio è un'azione contro la storia la borghesia in questa fase sta agendo permanentemente contro la storia perché è attratta dal valore primordiale del conflitto di classe e quindi dal bisogno di affermarsi naturalmente lo fa ne ha la possibilità la capacità ma certamente questo non ci consegna un futuro ecco io penso che il piano Draghi da questo punto di vista vada un po' anche svergognato per quello che noi dobbiamo smetterla di avere una sorta di complesso di inferiorità intellettuale che ci viene venduto dai mass media proprio per partecipare alla devalorizzazione dell'intelligenza naturale io non sono contro l'intelligenza artificiale ma penso che c'è un'intelligenza naturale che mantiene una sua capacità di essere superiore grazie Roberto un'intelligenza naturale che andrebbe salvaguardata in effetti grazie per il tuo intervento per aver alla fine portato l'attenzione sulla questione degli investimenti che Draghi propone sul piano della difesa che se non mi sbaglio però ce lo dirà meglio Alessandro ammontano nella sua previsione fa bisogno di circa 50 miliardi l'anno peraltro su questa cosa io sono andata un po' a guardare i documenti che menzionavo prima in particolare questo documento dei cinque presidenti che si chiama completare l'unione economica e monetaria dell'Europa per andare a cercare se in tutte le misure menzionate ci fosse qualcosa a proposito della difesa appunto ma da una semplice ricerca testuale non compare difesa non compare eserciti non compare nemmeno pace o guerra perché appunto ci troviamo comunque in un'altra dimensione in un'altra situazione che dopo a partire dalla pandemia come sappiamo tutti è cambiata completamente e quindi in questo modo diciamo lui ha comunque dovuto contemplare questo aspetto inserendolo nella politica industriale poi prima di ridare la parola ad Alessandro invito però gli altri se a manifestare il loro interesse a partecipare grazie dunque riprendo perché volevo appunto arrivare alla questione della di come dire descrivere il quadro interpretativo perché è tutto molto legato c'è una logica ferrea nel ragionamento di Draghi date certe premesse ovviamente allora data la manifesta inadeguatezza che lui stesso descrive del 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 capitalismo europeo delle imprese esistenti diciamo ecco qui Draghi con diciamo una inversione ordo liberista ecco identifica l'Unione Europea che però non è uno stato perché l'ordo liberismo sappiamo nato in Austria in Germania diciamo che è stata poi la la politica tedesca del dopoguerra fondamentale quindi dove lo stato non è che non interviene lo stato interviene perché riconosce che ci sono i fallimenti del mercato e quindi deve qualche misura costruire le condizioni generali che consentono al capitalismo di sopravvivere alle sue contraddizioni interne diciamo e qui è il bello perché questa logica viene applicata non più a uno stato nazionale ma all'Unione Europea l'Unione Europea diventa il soggetto che deve entrare in campo direttamente intervenire con un rinnovato attivismo deve costruire nuove regole nuovi strumenti favorire processi sciumpeteriani di innovazione tecnologica in campo industriale ed ambientale promuovere processi di aggregazione e centralizzazione dei capitali industriali e finanziari nonché finanziari direttamente con diciamo l'ipotesi di Draghi complessivamente che ci vogliono per il suo piano ci vorrebbero 750-800 miliardi di euro all'anno per almeno 5-6 anni cioè dal 2025 al 2030 questo per adeguare per fare per avere l'adeguamento complessivo del capitalismo europeo compreso quello del sistema militare industriale militare in modo che appunto il posizionamento egemonico globale dell'Europa possa essere preservato il paradosso è che Draghi ammette che tra virgolette dobbiamo garantire che le nostre istituzioni elette democraticamente siano al centro di questi dibattiti le riforme possono essere veramente ambiziosi e sostenibili solo se godono del sostegno democratico questo lo dice a pagina 5 però dette queste parole procede a prescrivere nuovi compiti e poteri unilaterali dell'Unione Europea una istituzione sovranazionale assolutamente verticistica tecnocratica top down che si sovrappone agli stati nazionali democratici ed è tutto priva di una vera legittimità democratica ricordo che non ha neanche la classica divisione dei poteri legislativo esecutivo giudiziare annunciata da Montesquieu che è la caratteristica basilare delle democrazie liberali che opera con procedimenti decisionali in larga parte che sono in larga parte resi opachi dalle dinamiche intergovernative il consiglio si riunisce a porte chiuse nessuno all'esterno poi ci sono solo le indiscrezioni e fa i suoi accordi ora come dicevo appunto cerchiamo di capire come Draghi costruisce il quadro logico analitico e poi vediamo di ragionare sulle raccomandazioni misure di intervento che sono almeno 170 che identifica in relazione a quelli che lui considera essere i 10 settori strategici per il futuro della competitività dell'economia europea quali sono questi 10 settori sono l'energia materie prime critiche digitalizzazione e tecnologie avanzate includendo dentro le reti superveloci banda larga ad alta capacità computing intelligenza artificiale semiconduttori poi ci sono le industrie energivore prodotti chimici metalli di base minerali non metallici e carta tecnologie le tecnologie pulite quindi lui parla specificatamente in turbine eoliche fotovoltaico elettrolizzatori pompe di calore e combustibili a basse emissioni di carbonio ma parla anche di nuovo nucleare e di cattura del carbonio e quindi per dire che non si pone nessun limite diciamo le energie pulite c'è pure il nuovo nucleare per essere chiari poi ci sono le automobili elettriche e la guida autonoma difesa spazio farmaceutica e trasporto questi sono i 10 settori poi appunto nella seconda parte del rapporto ognuno di questi settori viene analizzato a dettaglio e ci sono tutta una serie di identificazioni di obiettivi di misure che dovrebbero favorire la competitività europea in questi settori e quindi con tutti gli interventi necessari per ravvivarla poi appunto sempre nella seconda parte lui tratta quelle che lui chiama le politiche orizzentali che sono finalizzate a stabilire le condizioni quadro per gli investimenti quindi parla di accelerazione dell'innovazione chiudere il gap delle competenze del lavoro questo è un tema è l'unico l'unico punto su cui parla del lavoro e ne parla solo in termini di skills cioè dice no noi in certi settori prendiamo il digitale noi non abbiamo gli skills quindi bisogna formare e quindi bisogna dare l'opportunità alle persone qui la solita logica delle opportunità alle persone di riformarsi o di formarsi per poi riuscire a rientrare nel mercato del lavoro quindi e quindi qui parla anche su questo tema della formazione degli skills è l'unico momento in cui lui parla anche dei sindacati e delle associazioni imprenditoriali per il resto i sindacati non esistono nell'apporto l'altro sempre nelle politiche orizzontali sostenere l'investimento ravvivare la concorrenza e qui appunto come avevo accennato già prima adesso non c'è tempo per stare a entrare però ecco c'è tutto un ragionamento sul fatto che le fusioni i merger acquisition le concentrazioni devono essere in qualche misura si deve trovare il modo ecco giustificandolo con il discorso dell'innovazione e della competitività ecco devono essere rilassate modificate in quasi tutti i settori ecco questo è a quantomeno quelli quei dieci che lui considera essere strategici diciamo ecco poi l'ultimo l'ultimo tema su cui appunto poi vediamo di tornare alla fine è quello di rafforzare la governance dell'Unione Europea quindi il punto qui è quello di rifocalizzare e accelerare il lavoro dell'Unione Europea lui dice il sistema è troppo lento ci vogliono 19 mesi non fa una legge no ecco quindi disaggregato e poi soprattutto è troppo complesso qui bisogna semplificare le regole le normative quindi c'è tutto un tema l'Unione Europea si è specializzata nella regolamentazione nel fare regole eccetera dice questa roba è troppo le aziende non sono in grado di sostenerla questa cosa bisogna semplificare molto semplificare ma questa cosa uno potrebbe dire vabbè su alcune cose certo bisogna semplificare però lui ci mette anche l'ambiente cioè l'uso dei FAS la questione della due diligence e la sostenibilità che è una cosa su cui ci si è ci si è battuti in Europa per una decina d'anni lui dice no questa è una roba troppo complicata va semplificata va abolita eccetera e poi lui per esempio sostiene che bisognerebbe per dire sempre in questa logica l'Etta ne aveva già parlato il ricorso a un ventottesimo regime che dovrebbe diciamo bypassare gli stati nazionali quindi c'è un'autorizzazione europea allora questa cosa qui significa che praticamente questa cosa viene stesa anche per dire ai progetti però attenzione cioè tu c'hai progetti diciamo infrastrutturali oppure per esempio per dire di nuovo nucleare cioè tu non puoi andare lui dice c'è un'autorizzazione europea ecco quindi bypassando quindi tutte le storie di impatto ambientale che come fosse rispetto all'inceneritore di Roma che viene dichiarata l'emergenza e quindi poi si bypassa tutta la legislazione che c'è in questo modo bypassi tutti gli stati nazionali che a quel punto non si possono opporre perché ci sarebbe un interesse diciamo che viene prima che è europeo un po' come funziona con la corte di giustizia lo abbiamo visto in questi giorni la corte di giustizia va pure sopra la costituzione di un paese almeno questo almeno è quello che viene affermato ora il quadro interpretivo di Draghi è suffragato da una vasta messa di dati ecco questa è la cosa importante da segnalare ci sono un sacco di tabelle un sacco di dati un sacco di grafici quindi per chi è appassionato anche da un punto di vista statistico certamente è un rapporto che dà soddisfazione parte dalla constatazione che negli ultimi due decenni c'è stato un rallentamento della crescita economica europea rispetto a quelli che Draghi identifica come i due principali concorrenti la Cina e gli Stati Uniti la sua diagnosi è che questo rallentamento sia essenzialmente stato causato da un rallentamento della crescita della produttività per addetto nel settore industriale ora questa è una cosa interessante che uno da Draghi non si sarebbe aspettato cioè lui praticamente limita tutta la sua analisi al settore industriale ora questa cosa è anche abbastanza paradossale rispetto a cos'è l'economia nell'Unione Europea oggi perché Eurostat ci dice che l'industria nell'Unione Europea dà lavoro solo al 19% della forza lavoro circa 32 milioni di lavoratori producendo il 24% del valore aggiunto complessivo e nonostante che poi Draghi stesso afferma pagina 17 che buona parte della crescita futura del futura nel commercio intra UE sarà nei servizi però i servizi non se ne parla e questo approccio lui ce l'ha anche rispetto a un settore come quello digitale il digitale per lui non è il software è l'hardware che è pazzesco perché i sette giganti di cui si parla che lui parla americani in realtà sono soprattutto sono soprattutto nel software non nell'hardware questo è il mantra europeo che ci ha portato a perdere la sfida negli ultimi vent'anni rispetto al settore digitale perché noi non abbiamo le classi dirigenti non hanno capito che era il software la chiave della questione e quindi invece continuano a pensare che c'è il tema delle infrastrutture delle telecomunicazioni e certo ci vuole questo ma non è quello il digitale non è quella roba lì diciamo o quantomeno è una parte di quello ma invece c'è questa enfasi come dire molto materialistica molto materiale molto industriale ecco che rispetto alla nuova economia uno si dice ma di che parliamo ecco poi l'altro sempre nella logica interpretativa ecco lui dice che in realtà per quanto riguarda le prospettive future Draghi sostiene che la geopolitica sia passata da stabile e instabile ovviamente questo è un dato di fatto nel momento in cui gli Stati Uniti hanno deciso dal 2018 di andare diciamo allo scontro con la Cina cominciando con i dazzi di Trump e fino adesso sempre più siamo arrivati al punto che per dire le automobili elettriche negli Stati Uniti 100% di tariffe quindi praticamente non ci sarà una macchina che arriverà in cinese che arriverà negli Stati Uniti e soprattutto adesso sono arrivati al punto che dicono che è un problema di sicurezza nazionale perché siccome c'è il software nella macchina cinese i cinesi ci spiano e potrebbero anche decidere di fare delle azioni di sabotaggio tipo bloccare tutte le macchine americane tutte le macchine cinesi sulle autostrade e quindi creare il caos allora quando si arriva a questi livelli è chiaro che non c'è più compromesso cioè siamo già in una fase in cui si pensa proprio allo scontro perché non stai più ragionando è cospirazione è una logica ora da questo punto di vista gli Stati Uniti lo vediamo su alcuni settori dai semiconduttori alle auto elettriche eccetera hanno fatto la scelta del disaccoppiamento della separazione con la Cina no? non gli diamo i semiconduttori non importiamo le loro macchine eccetera eccetera quindi chiusura completa la differenza qui e quindi Draghi su questo la riflette e quindi lui è favorevole a una differenza con gli Stati Uniti su questo punto quindi diciamo riconosce che l'Europa dovrebbe avere un ruolo autonomo rispetto alla Cina è quella del derisking che è una cosa che si è inventata diciamo la Fonderlion l'anno scorso che però significa sostanzialmente che noi non consideriamo la Cina un rivale strategico certo lo consideriamo un avversario diciamo ecco e quindi gli Stati Uniti lo considerano un avversario noi lo consideriamo un rivale strategico che è qualcosa di meno dell'avversario diciamo dell'emico ecco quindi è su questo quindi lui dice no però ecco su questo quindi il rapporto anche rispetto ai settori rispetto alla Cina su alcune cose lui non cioè mantiene un'apertura e appunto come dicevo prima il discorso è che dove noi non siamo competitivi e non abbiamo un interesse come il fotovoltaico cioè siccome la Cina sussidia ecco noi ci avvantaggiamo dei sussidi cinesi che la Cina che lo Stato cinese paga alle imprese ecco poi Alessandro dimmi tu quando ti vuoi fermare un attimo così poi dopo ok volevo solo dare la parola da Franco Russo ok ora poi quindi l'altro aspetto che lui riconosce è che l'Europa ha perduto anche il principale fornitore a basso costo di energia la Russia dal quale l'Unione Europea importava il 45% del gas consumato nel 2021 ancora siamo credo più del 20% comunque e ovviamente la Germania soprattutto si è orientata verso il gas liquefatto americano che sappiamo avere un costo molto superiore noi siamo andati in Algeria non so in Azerbagian dovunque era possibile andare con l'Eni eccetera poi lui dice siamo di fronte a un in presenza di un'accelerazione del cambiamento tecnologico con Draghi che ammette che l'Europa è qui citazione sua l'Europa ha perso in gran parte la rivoluzione digitale guidata da internet e i guadagni di produttività che ha portato in effetti il divario di produttività tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti è ampiamente spiegato dal settore tecnologico l'Unione Europea è debole nelle tecnologie emergenti che guideranno la crescita futura solo 4 delle prime 50 aziende tecnologiche del mondo sono europee questa è la sua conclusione amare a pagina 1 addirittura all'inizio a questo quadro deprimente diciamo di crisi di permacrisi diciamo di policrisi Draghi aggiunge la nota dolente della questione demografica e lui dice al 2040 ci saranno 2 milioni di lavoratori in meno all'anno e vista la mancanza di una politica comune integrata sulle migrazioni questo è un fattore che rafforza il suo argomento che l'unico motore della crescita economica dell'Unione Europea è la produttività del lavoro cioè questa è quindi questa cosa lui la utilizza ora accenno solo velocemente poi facciamo poi dopo mi fermo che questo è il quadro interpretativo poi diciamo su cui organizza tutta la sua narrazione tre sono le aree di azione strategica che identifica per ravvivare quella che lui definisce una crescita sostenibile tra virgolette su cui l'Unione Europea in quanto soggetto istituzionale deve prioritariamente intervenire in prima persona allora la prima area di azione è quella di chiudere il gap innovazione con gli Stati Uniti e la Cina nelle tecnologie chiare e lui qui fa appunto questo ritorna e fa questa osservazione dicendo se guardiamo il settore delle tecnologie digitali nel mondo non ci sono grandi piattaforme europee sei sono statunitensi e quattro sono cinesi le più importanti società tecnologiche mondiali appena quattro sono europee il sistema imprenditoriale si dimostrò del tutto inadeguato essendo rimasto concentrato sulle tecnologie mature le tra virgolette lo dice lui le tecnologie industrie intermedie del secolo precedente che non sono al centro di radicali avanzamenti tecnologici ciò lui dice produce un circolo prezioso di basso investimento e basso innovazione pagina 24 che comporta un rallentamento dell'aumento della produttività e poi cito solo questa frase che dice l'Europa è bloccata in una struttura industriale statica con poche nuove aziende che sorgono per sconvolgere le industrie esistenti o sviluppare i nuovi motori di crescita infatti non esiste un'azienda dell'Unione europea con una capitalizzazione di mercato superiore a 100 miliardi di euro che sia stata creata da zero negli ultimi 50 anni mentre tutte e sei le aziende statunitense con una valutazione superiore a un trilione di euro sono state create in questo periodo quindi poi su questo c'è tutto il tema appunto dell'innovazione però ecco l'innovazione dice caspita ci vogliono i soldi e allora ci vogliono questi soggetti appunto i venture capitalists i private equity provider l'angelo investor i fondi pensione privati perché qua il problema qual è? che gli Stati Uniti ce l'hanno i private equity e gli angel investor e i venture capitalists e cosa fanno questi? vengono in Europa e si acchiappano gli unicorni europei e se li portano negli Stati Uniti lui dice il 30% delle aziende innovative europee non sono europee sono fatte da europei che però sono finanziati dai fondi americani che probabilmente sono i fondi europei che gli americani vengono a rastrellare e poi vanno a investire negli Stati Uniti e quindi diciamo questo è uno dei suoi grandi cruci questo poi se c'è tempo ne parliamo ora l'altro il secondo la seconda questione diciamo su cui lui fa tutto il ragionamento diciamo è quella della secondaria di azione dell'Unione Europea deve essere quella di mettere a punto un piano congiunto per la decarbonizzazione della competitività la cosa interessante è che lui per esempio rispetto a quei soggetti dell'industria energivora lui dice caspita questi consumano un sacco di energia la chimica l'acciaio eccetera e allora uno si aspetterebbe che lui dicesse vabbè ma se gli Stati Uniti per dire che hanno il gas alla fine potrebbero produrre loro e noi compriamo oppure non so altri paesi dice no però c'è un problema di sicurezza ecco qui che torna la questione geopolitica noi dobbiamo perché poi il terzo punto è proprio quello tutto dedicato la terza area di azione dell'US secondo Draghi deve essere tra virgolette l'aumento della sicurezza e la riduzione delle dipendenze cioè che vuol dire questo questo vuol dire bisogna appunto armarci e poi soprattutto bisogna costruire le catene del valore soprattutto nei settori che lui considera strategici che siano il meno dipendenti bisogna fare accordi e quindi le armi servono anche per intimidire ovviamente i paesi per dire dell'Africa no perché alla fine tu devi comunque farti dare terre rare ecco cioè invece di darle ai cinesi le devono dare a te ecco perché se no tu non diciamo i settori innovativi non li fai e sei dipendente dalla catena di fornitura della Cina che io ce ne scampio i liberi insomma no quindi ecco adesso mi fermerei perché voglio dire questo questi sono questi sono tre punti fondamentali su cui lui fa tutta una serie di riflessioni e che però discendono da quella analisi interpretativa che ho cercato di delineare che è piena di sostanzialmente in una logica ferrea no di dove tutti gli aspetti però sono soprattutto di carattere economico e però anche con una valutazione rispetto al tema appunto che dicevo della sicurezza no della della sicurezza e quindi cioè quel discorso che dicevo che il tema di fondo è quello di costruire un sistema autosufficiente sostanzialmente sia dal punto di vista energetico che delle almeno del almeno nei settori che loro vengono definiti strategici poi vedremo chi vi va vedrà e diciamo no ecco bisogna in qualche misura assicurarsi di non dipendere da nessuno il che è pazzesco perché l'Unione europea chiudo qui ha costruito il suo successo nel dopoguerra sull'apertura cioè la progressiva riduzione dei dazzi l'apertura al mercato mondiale eccetera eccetera cioè oltre che a interno a costruire un mercato unico europeo no cioè quindi addirittura a togliere tutte quelle barriere che c'erano e ci sono ancora in parte tra uno stato e l'altro rispetto alle transazioni invece adesso qui il tema è quello che ci dobbiamo in qualche misura chiudere o comunque essere molto selettivi rispetto alle aperture mi fermerei per ora grazie Alessandro prima di dare la parola a Franco Russo vorrei fissare una chiusura di questo incontro a questo punto direi verso le 19.15 se siete d'accordo perché andiamo un po' oltre a loro e mezza e a proposito di di questo della politica industriale cioè tu dici anzi Draghi dice la politica industriale europea è molto debole dobbiamo affidarci molto al settore privato affinché ce la fa anche se finora non ha dato una grande prova di una grande performance insomma di sviluppo così come un po' succede in Italia tra l'altro non abbiamo una politica industriale diamo finanziamenti un po' pioggia però poi non c'è un effettivo l'effetto desiderato probabilmente se fosse comprensibile diciamo l'effetto desiderato e l'altro tema importante ma magari lo affrontiamo in chiusura Alessandro è che c'è bisogno secondo Draghi di 750 800 miliardi l'anno per 5-6 anni e come si trovano questi soldi con appunto diciamo una solidarietà fra i paesi membri quindi un modello tipo Next Generation EU ma su questo poi bisogna vedere se i governi diciamo sono concordi data anche la prova cioè possiamo vedere qual è la prova dei piani nazionali di ricostruzione di resilienza non mi ricordo più e do la prova a Franco Franco Russo grazie mille io partirei ovviamente apprezzando tutta l'informazione ricchissima che ci ha dato Alessandro dall'ultima considerazione che faceva proprio Paola e cioè a dire Draghi chiede un cambiamento di paradigma per quanto riguarda gli interventi pubblici a sostegno delle imprese private e come diceva Alessandro cioè là dove c'è il fallimento di mercato lo Stato dovrebbe intervenire non direttamente ma sostenendo appunto con finanziamento le imprese pubbliche Paola giustamente ci dice ma che cosa diranno i governi i 27 governi di questo cambio di paradigma e qui mi permetterei di dare un suggerimento a Pasqualina e a Roberto che guideranno il prossimo incontro secondo me questo è un punto che voi dovreste tenere presente nel momento in cui affronterete le dinamiche politiche dell'Unione Europea perché secondo me non la vostra relazione ovviamente è un mio suggerimento quindi fatene quel che vi tenete opportuno io penso non si tratta solo di definire di chiarire le dinamiche politiche di partito dentro il Consiglio Europeo dentro i vari consigli ministeriali o il Parlamento si tratterebbe di capire come dice adesso appunto Paola se effettivamente dentro i governi europei nel Parlamento europeo ci sono dinamiche tale per cui il piano Draghi suggerimenti specifici che lui dà potranno essere accolti o meno quindi per dire la parola che bestemmia che per Roberto Musacchio se il momento Hamiltoniano per l'Unione Europea è giunto non è giunto ora io ho inviato appunto sulla nostra lista sulla nostra lista di email l'ultimo intervento di Borrello ora per quanto vale Borrello in ultima fase così comunque come avete visto anche Borrello ripone il problema a sostegno di Draghi ovviamente bisognerebbe mutualizzare il debito e fare anzi emettere un asset comune europeo per finanziare gli 800 miliardi che Paola ricordava questo è il primo punto ovviamente Pasqualino e Roberto ne facciano l'utilizzazione che credono la seconda questione è questa il cambio di paradigma che Draghi chiede semmai sarà tradotto cioè se sarà accolto dai governi europei chiede anche un mutamento di paradigma per quanto riguarda la politica di competizione e quindi la politica antitrust che Alessandro se non sbaglio ha richiamato giustamente ora io penso che questo adesso non voglio fare il filologo ma invece mi permetto di diciamo di suggerire una linea interpretativa di natura politica ora quando noi parliamo di neoliberismo anche adesso alla fine Alessandro diceva lordo liberismo eccetera eccetera io penso noi dobbiamo mettere i puntini sulle i perché Draghi che cosa chiede e su questo credo che Alessandro abbia dato abbia dato ampia esemplificazione del suo del suo rapporto Draghi chiede che in Europa anche l'ultimo esempio che tu facevi delle grandi tech eccetera eccetera che in Europa nascono i grandi campioni che possono commisurarsi con i campioni cinesi e statunitensi sul mercato mondiale questi campioni l'Europa l'Unione Europea non ce li ha e non ce li ha anche perché ha perseguito una politica questa sì ci tenga a precisare ordo liberista nel senso che la politica dell'Unione Europea per quanto riguarda la competizione e la costruzione di grandi campioni perseguita peraltro invece dalla Francia questi anni è stata di natura ordo liberista perché l'ordoliberismo ha sempre detto la lotta ai monopoli la libertà di competizione è cruciale ma questa politica mi rivolgo Alessandro non per polemizzare ma per interlocuire semplicemente questa politica ordo liberale è durata fino al 1999 quando proprio Mario Monti ha cominciato a tentare di mettere a cambiare questo orientamento della politica antitrust accentuando invece anzi accettando scusate ho sbagliato accettando l'impostazione del liberismo di Chicago dove appunto il liberismo di Chicago che cosa ti dice a noi non interessa se l'impresa è grande o piccola a noi interessa il benessere del consumatore cioè in pratica i risultati economici in termini di appunto di produzione di valore quindi Mario Monti quando è stato la prima volta commissario Paola tu lo ricorderai di sicuro e ha provato a cambiare la politica di competizione la Vestager cioè l'attuale guida esatto che guida anche la DG4 che è quella della competizione ha restaurato invece questa politica e ha fatto le misure che tu ricordavi ora io su questo vorrei essere ripeto sembra un punto particolare ma i due asse su cui il rapporto tra che si muove è il finanziamento pubblico con l'emanazione di un asset pubblico europeo e l'altra è la costruzione dei grandi campioni se però non superi la politica ordo liberale cioè dire non ti fai invece non ti attesti su una politica di liberismo alla Chicago cioè alla Friedman la produzione dei grandi campioni non ce l'hai perché appunto la Festagra ha negato continuamente la possibilità che i grandi che le grandi imprese europee si mettessero insieme per fare la razionalizzazione dei prodotti Draghi è guidato e sto terminando Draghi è guidato invece dalla linea che dice l'innovazione è frutto solo e semplicemente adesso non so se lui lo dica in tutta la storia del capitalismo ma in questa fase della grande impresa e quindi se la grande impresa non viene agevolata nel nostro nel nostro paese l'innovazione non non riesce a farla io spero di essere stato chiaro comunque vi consiglio posso mettere su chatto sull'email la lettura di questo libro di Kustels The Making Unmaking Older Liberal Language in cui la storia della politica competitiva della competizione dell'Unione Europea è fatta con molta precisione e a mio parere in maniera molto convincente le ultime due cose sono queste una dice Roberto Musacchio ma Draghi fa ridere quando dice che l'Unione Europea deve diventare una potenza il problema Roberto secondo me è non vedere se l'Unione Europea sarà in grado di competere con Cina e Unione Sovietica e USA per quanto riguarda diciamo così gli equilibri geopolitici quello che è importante è il fatto che l'Unione Europea si avvia a essere un'economia di guerra perché questo è il punto secondo me cruciale cioè quando la Germania stanza 100 miliardi per rinnovare le sue forze armate quando la Leonardo si mette con Rheinmetall per la produzione di nuovi di nuovi armamenti quando l'Italia sempre Leonardo fa parte con l'Inghilterra e il Giappone per la produzione dell'aereo da qui al 2035 beh tu stai dando appunto mettendo in modo un kinesismo di guerra che loro sperano di ha dei frutti e i frutti quali sono di rilanciare la produzione europea e di non essere di non fare dell'Unione Europea un partner subalterno agli Stati Uniti quindi competere alla pari con le tre superpotenze ci riusciranno io questo non lo so in termini geopolitici di sicuro loro quello che riusciranno a fare se i governi saranno d'accordo quindi sempre appello a Pasqualini e a Roberto per la prossima ordina a vedere se effettivamente il piano Draghi sarà assunto come un piano diciamo di direzione dei grandi investimenti l'ultimo punto che volevo su cui richiamare l'attenzione e su cui Alessandro ha accennato è la grande insistenza che Draghi fa appunto delle politiche schumpeteriane sull'innovazione cioè Draghi dice che i finanziamenti questo tu l'hai detto molto bene l'hai ricordato con molta precisione noi dobbiamo trasformare gli inventori in investitori c'è proprio lo slogan che dice Draghi nel suo rapporto cioè a dire noi dobbiamo fare in modo che la ricerca di base quella universitaria i centri di ricerca con Horizon e gli altri programmi non solo finanziano la ricerca ma a un certo punto questa ricerca come succede negli Stati Uniti e come succede in Cina si traduca in 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 start up e in campi di innovativi come è stato fatto con tutto l'high tech che oggi guida appunto la grande innovazione che guida anche diciamo così l'estrazione di valore su scala locale e mondiale grazie per l'attenzione ho io dato a mangiare ai gatti mi allontano tre minuti grazie Franco allontanati ma poi ritorna perché poi in conclusione ci dovrai dire del prossimo incontro dell'osservatorio solo tre minuti e allora io non ho altre iscrizioni a parlare quindi ridò la parola a me dopo le conclusioni diciamo la conclusione insomma no cerco cerco di andiamoci ancora dieci minuti quello che giusto una risposta veloce a quello che diceva Franco quando io dicevo l'ordoliberismo mi riferivo non a soprattutto al fatto che lui è l'Unione Europea che si deve porre il problema di dare le direttive cioè di fare i nuovi regolamenti di individuare le imprese di finanziare il finanziamento non è dello Stato nazionale è dell'Unione Europea questo è il punto è la centralizzazione a Bruxelles delle scelte economiche politiche che stanno dentro il quadro che Draghi definisce dopodiché faccio riflettere anche sul fatto che sta entrando è entrato il patto di stabilità e il patto di stabilità significherà che il piano Draghi ammesso che venga mai realizzato si realizzerà all'interno di un quadro di economie nazionali in piena politica austeritaria visto che non solo l'Italia ma la Francia anche la Germania dal covid in avanti il debito pubblico è esploso del 10 del 20 per cento e quindi bisognerà rientrare politiche austeritarie e quindi non favoriranno certamente né i consumi pubblici né i consumi privati diciamo ecco quindi questo poi è l'altro quadro diciamo perché lui dice infatti bisogna recuperare spazio fiscale spazio fiscale e poi dopo il finanziamento adesso ci arriviamo volevo fare solo un passaggio veloce per dire che appunto tutto il rapporto è pieno di esortazioni al fatto che bisogna che l'Unione Europea deve agire come una vera comunità facendo gioco di squadra e smettendo di comportarsi come una cozzaglia di paesi diversi debolmente connessi tra loro e questo richiede di superare tre ostacoli uno è la mancanza di focalizzazione e qui il tema è quello che dice sì noi facciamo i programmi facciamo le cose ma poi per esempio carichiamo di regolamentazioni di regole e poi soprattutto abbiamo una marea di programmi e non c'è una focalizzazione delle risorse su quelli che sono i programmi strategici veramente strategici secondo punto appunto è collegato a questo è quello dello spreco delle risorse comuni e qui però lui diciamo il ragionamento è anche il fatto che diciamo bisogna arrivare a superare questo discorso completamente delle economie nazionali di fatto ci vogliono gli appalti collaborativi europei per esempio bisogna per le armi bisogna una linea che in realtà è già diventata con la strategia europea dell'industria europea rinunciata a marzo bisogna puntare sul fatto che appunto si produce un solo cararmato non più 48 poi vedremo perché anche lì basta anche sulla difesa la cosa fantastica è questa che l'Europa è spaccata perché ci sono paesi come la Polonia e tutti i paesi dell'est che guardano agli Stati Uniti non all'Unione Europea per comprare le armi e quindi anzi guardano con sospetto quando in paesi che dicono che bisogna fare questo complesso militare industriale europeo quali sono? Sono la Germania la Francia l'Italia e sono i paesi che sono più dotati appunto si citava prima la Leonardo ma si potrebbe citare l'industria tedesca dei cararmati e così via mentre invece questi paesi diciamo che guardano a est e che vogliono avere gli Stati Uniti perché loro pensano che i russi siano la vera minaccia e quindi stanno sulla frontiera e quindi comprare armi dagli Stati Uniti garantisce che gli Stati Uniti non li molleranno diciamo quindi ci sono queste spaccature che poi vedremo come se riusciranno a essere ricomposte anche rispetto ai programmi terzo punto è l'Europa non si coordina dove conta quindi ci vogliono è troppo lento il processo decisionale lento e disaggregato ci vogliono 18-19 mesi per avere una legge e quindi poi lui arriva anche poi adesso con la governance lì poi ne parliamo velocemente a dire che appunto bisogna che le decisioni devono essere prese certo questione per questione però bisogna fare in modo che il diritto di veto venga in qualche misura eliminato questo poi però come questo sia possibile ecco lui non è che entra nel dettaglio perché sa perfettamente che questa è una delle questioni più controverse e quindi evidentemente voleva starne fuori rispetto al fatto che poi lui propone altre cose quelle della competitività e non voleva esporsi evidentemente a una controffensiva politica immediatamente ecco ora quello che dicevo prima è che il pubblico è completamente fuori qui ci sono per esempio delle critiche che potete leggere ci sono degli articoli scritti da Roberto Romano economista e anche da un altro economista Mario Pianta della scuola normale superiore di Firenze per esempio notano che avere escluso tutti i soggetti pubblici cioè noi veniamo da un capitalismo misto ancora c'è la Leonardo e c'è poco altro però dove lo Stato aveva una presenza nell'economia ma ci sono le public utility ci sono tutta una serie di soggetti pubblici Draghi non ne parla e questi invece appunto Romano e Pianta sottolineano il piano Draghi se venisse mai realizzato come lui lo disegna come lui lo delinea sarebbe una specie di bancomat per le imprese nella sostanza questi 750 800 miliardi verrebbero date le imprese che presentano dei progetti che poi la burocrazia europea decide che hanno un valore e non c'è nessuna regia vera per il politico e soprattutto tutto il pubblico diciamo viene completamente nazionale viene completamente che però ha una presenza se pensiamo all'Italia insomma c'è un luogo non da poco ora per chiudere la storia del finanziamento del piano e della governance dicevo appunto che lui dice ci vuole per l'innovazione per diciamo migliorare la produttività aumentare la produttività la digitalizzazione la decarbonizzazione ci vogliono un minimo 750-800 miliardi di euro di investimento all'anno che sarebbe corrispondente al 4,4 4,7 del PIL dell'Unione Europea nel 2023 una cifra enorme a titolo di confronto di investimenti nell'ambito del piano Marshall tra il 48 e il 51 erano equivalenti all'1-2% del PIL dell'Unione Europea per realizzare questo aumento la quota di investimenti dell'Unione Europea dovrebbe aumentare da circa 22% del PIL attuale a circa il 27 invertendo un declino pluridecennale della maggior parte delle grandi economie dell'Unione Europea allora di questi 750-800 miliardi Draghi dice 450 c'è uno specchietto 450 sarebbero destinati ad investimenti per la transizione energetica di cui 300 per il passaggio in energie pulite 150 per i trasporti inclusa l'infrastruttura elettrica per la ricarica 150 invece dovrebbero andare le tecnologie digitali 50 per il settore militare e 100 per l'aumento della produttività ora però la cosa interessante di tutto questo rapporto è che rischia lui non fa nessun tipo di nonostante che dica ci vogliono tutti questi soldi non c'è un'analisi di impatto in termini di occupazione valore aggiunto crescita e altri indicatori socio-economici cioè è un piano che non esiste cioè non è un piano esecutivo non è niente è una visione di come dovrebbero essere le cose in questo modo tutte le iniziative dei lineati diventano semplicemente dei buoni propositi dobbiamo quindi prendere atto che Draghi ha sostanzialmente delineato una visione piena di buone intenzioni che necessita di ulteriori studi conoscitivi di fattibilità e statistica probabilmente quei burocrati che lo hanno aiutato tecnocrati di Bruxelles avranno già tutti i piani pronti però noi non ce l'hanno fatto certamente sapere in questa cosa cioè non c'è nessun tipo di non è cioè non è un piano ecco è appunto è un rapporto per fare un piano ci vuole ci vuole ci vuole dell'altro indicatori gli impatti le cose previsioni eccetera ora come si finanzia questa roba ecco ne ha parlato anche Letta rispetto appunto al mercato dei capitali dell'unione dei mercati dei capitali perché lui dice Draghi è il primo a riconoscere che il settore privato non sarà in grado di sostenere la parte del leone del finanziamento degli investimenti senza il sostegno del settore pubblico questo lo dice già a pagina 5 e quindi lui dice dovranno essere emessi dei titoli di debito pubblico europeo comuni dei common safe assets come era già avvenuto appunto nel caso Next Generation EU per finanziare quelli che Draghi definisce come investimenti in beni pubblici europei chiave ecco qui adesso in questo momento quando si tratta di dire che cavolo facciamo usa il termine che è questo investimenti in beni pubblici europei è chiave il punto è che però stiamo investendo nelle aziende private ricordiamocelo certo secondo quello che lui le sue premesse e ora la questione è che in realtà secondo me proprio per le reazioni che ci sono state noi in Germania Lindner ma anche altrove insomma ci sono i famosi paesi fluglali che di come dire di mettere il debito comune non ne vogliono sapere quindi su questa strada la sensazione è che sarà molto difficile che il piano Draghi possa avere un qualche effetto perché se la parte pubblica diciamo nella logica dei bonds delle obbligazioni dell'Unione Europea non si può perseguire non si può perseguire cioè buona parte dei soldi necessari non ci saranno secondo me ecco però il punto vero è che qui invece c'è la possibilità e questo è un po' sono d'accordo con Musacchio tema vero è quello di andare a prendere i soldi nella tasca nei risparmi negli europei considerando che già adesso cosa succede che se uno ha dei soldi ammesso che uno abbia dei soldi poi dice ma c'è il risparmio gestito il risparmio gestito in realtà cosa fa? finisce che poi attraverso due o tre passaggi dalla banca popolare di soldi lo faccio per dire quindi non da necessariamente da unicredit della banca intesa passa attraverso due o tre passaggi finisce dentro i private equity americani che finiscono a investire su Wall Street e questo è il 60% si stima che il 60% di questi soldi cosiddetti di risparmio gestito in realtà finisce negli Stati Uniti già adesso e questa è il vero la vera questione che angoscia secondo me uno come Draghi che ha fatto il presidente della BCE quindi sa perfettamente come si giocano poi gli equilibri e quindi infatti lui dice dobbiamo assolutamente fare in modo che questo mercato dell'unione dei capitali il mercato dei capitali venga realizzato e che nascano questi soggetti europei ma la cosa è divertente perché poi alla fine l'Unicredit sta cercando di comprare Commerce Bank in Germania dopodiché in tedeschi il governo tedesco si è opposto prima erano stati invitati anche dalla Bundesbank eccetera perché si riconosce che forse è il caso che ci siano dei campioni bancari europei che JP Morgan la banca americana è da sola è più grande di tutte le dieci grandi banche europee quindi non so voglio dire se vuoi competere alla fine e questo è solo JP Morgan poi se ci mettiamo appunto i fondi allora la questione credo che sia un po' questa su cui si sarà la battaglia è quella appunto di creare tutta una serie di sistemi per esempio fondi pensioni integrativi il TFR magari per esempio nel caso italiano se ne è parlato invece di lasciarlo lì forse va a finire dentro un fondo il quale fondo poi però ecco la Luricredit che vuole fare questa acquisizione se uno va a vedere l'azionariato scopre che il 6% del capitale c'è la Blackstone no? hai capito? quindi e poi ci sarà BlackRock e ci sarà tutte le altre i private equity americani che magari in questo momento non sono visibili che forse hanno addirittura perché ci sono ancora le fondazioni bancarie che in qualche misura fanno 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 questa banca un po' italiana come banca intesa però poi arriverà il giorno in cui magari questi scopriranno le loro carte abbiamo visto che nel caso di BlackRock due settimane fa c'è stato questo incontro con la Meloni credo poste italiane non lo so qualche altra cosa la stessa Leonardo che è già piena di fondi americani ora sul tema della governance invece giusto per chiudere il tema io cito solo cioè qui Draghi è completamente nebuloso cioè parla di tutte le soluzioni le passerelle tutte cose che però non esistono non stanno in piedi le clausole cosiddetta passerella per aumentare il numero delle decisioni ad adattare a maggioranza qualificata passaggio difficile da realizzare visto che richiederebbe un accordo preliminare cioè tutti i paesi dovrebbero essere d'accordo che diamo questa possibilità soggetto all'unanimità a livello di consiglio europeo tanto è vero che questa clausa non è mai stata utilizzata finora chiaramente cioè sì dopo dopo che viene data l'Ungheria perché dovrebbe dare sta delega cioè fatemi capire è l'unico potere di interdizione che ha allora chiudo soltanto citando una citazione citando un osservatore attento ancorché di parte che è Sergio Fabbrini che scrive sul sole 24 ore però ogni tanto anche Fabbrini dice delle cose intelligenti e lui dice come ha notato un attento osservatore come Sergio Fabbrini questo l'ha scritto il 15 settembre diceva la sfida esistenziale evocata da Draghi richiederebbe un cambiamento di paradigma relativamente al governo dell'Unione Europea e lui dice citazione sua avendo costruito istituzioni a pezzi e bocconi i funzionalisti perché ricordiamoci che appunto quelli che hanno costruito l'Europea sono i funzionalisti cioè ogni crisi era quello che diceva diciamo Necia ai tempi l'Europa si fa sulle crisi e ogni volta si trova un pezzo e così via i funzionalisti hanno portato l'Unione Europea in un piccolo cieco sul piano della governance consentendo ai governi nazionali di perseguire i loro interessi ritenendo che essi coincidano con l'interesse europeo le 393 pagine del rapporto Draghi finiranno in un cassetto in assenza di attori sovranazionali legittimati democraticamente quindi qui torniamo al tema che abbiano un interesse a perseguire un interesse una polisi a sua volta sovranazionale quindi questo è uno sta questo credo che sia poi alla fine l'ostacolo maggiore di tutta questa costruzione vedremo staremo a vedere che cosa cosa succederà certamente la cosa più semplice è che la von der Leyen prenda dei pezzi l'inserisca nel suo programma effettivo sulla questione delle armi l'Unione Europea si è costruita già una serie di strumenti della strategia europea per l'industria della difesa edis presentata il 5 marzo poi c'è il gruppo europeo di alto livello nell'industria della difesa poi ci sono un quadro giuridico che è quello della struttura per il programma europeo di armamento SEAP poi c'è il meccanismo europeo di vendita militare cioè che è quello che sostanzialmente dice bisogna farci dobbiamo farci le riserve quindi dobbiamo avere delle armi perché se scoppia la guerra non ci abbiamo riserve poi c'è il fondo per accelerare la trasformazione della catena di approfondimento della difesa fast cioè i programmi ci sono il quadro giuridico c'è non ci sono i soldi perché il fast c'è solo un miliardo e ovviamente non va lontano così quindi anche lì torniamo al tema di come si finanzia finito Alessandro grazie mi fermerai qua molto molto interessante molto illuminante diciamo che il problema poi è tramutarlo in pratica semmai vista la posizione dei governi che spesso diciamo soprattutto sulla questione del debito comune ovviamente si troveranno difficilmente d'accordo peraltro in queste settimane comunque agli inizi del 2025 deve partire la discussione sul nuovo quadro finanziario prioriennale che sarebbe quello che dovrebbe andare dal 2028 al 2034 per il quale è stato incaricato il commissario alla budget appunto alla pubblica amministrazione e all'antifrode che è un polacco Piotr Serafin con il mandato di semplificare molto il bilancio rispetto a quello attuale e soprattutto di ridurre il numero di programmi che fa un po' diciamo a che fare con quello che dicevi prima che c'è una proliferazione di programmi anche difficile da gestire e da monitorare e da valutare pure i risultati dei programmi che si mettono in campo quindi diciamo l'ipotesi è di ridurre molto i programmi a livello comunitario anzi farne fare una sorta di next generation nel senso di collegare investimenti a riforme e fare dei piani 27 piani nazionali però questo diciamo è ancora molto siamo in una situazione molto preliminare e vediamo come si svilupperà la cosa e allora grazie ad Alessandro grazie a tutti per l'ascolto passo la linea a Franco Russo per saluti conclusivi e prossimi appuntamenti grazie la conclusione l'avete fatta sia tu che Alessandro quello che solo vi posso dire noi abbiamo un l'appuntamento sulle dinamiche geopolitiche dell'Unione Europea come dicevo anche nel mio breve intervento e quindi aspettiamo da Pasqualina e da Roberto Musacchio la le loro disponibilità di date per vedere di combinarle con le disponibilità di tutte le altre persone dell'osservatorio e poi ne abbiamo però questa sarà una discussione che faremo magari a livello operativo se effettivamente Alessandro fa questa newsletter sulla nuova governance economica o meno perché questo era l'altro impegno però ripeto chiudiamo la riunione pubblica e poi nei prossimi giorni magari ci sentiamo per email o per telefono e decidiamo il da farti l'unico punto mi pare che Roberto Musacchio e Pasquale Napoletano ci comunicano le loro disponibilità di date e poi verifichiamo quando è possibile mettere in piedi questo secondo appuntamento sull'Unione Europea grazie ben molto per quello che avete fatto Alessandra e Paola arrivederci arrivederci grazie saluti a tutti ciao Loretta buona serata a tutti ciao Loretta auguri eh grazie a tutti 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 grazie a tutti